salve gente bentornati oggi 15 dicembre 2017 la fragranza che ho scelto è questa qui per questo giorno di candle advent calendar ed è la mary berry linzer ovvero una delle sei profumazioni della cookie swap che sono arrivati in un modo o nell'altro in italia qua da noi ho scelto lei perché è quella che mi è piaciuta di più e sono profumazioni tutte dolciose magari vi lascio qua da qualche parte quindi magari è la le altre descrizioni del sito interessati potete andare a vedere fa sempre piacere e le descrizioni del di tutta la collezione e ho scelto questa perché è quella che mi è piaciuta di più di tutte e la yankee candle a proposito dice un ricco ripieno di marmellata e lampioni racchiuso da una pasta frolla ricoperta di zucchero vanigliato semplicemente irresistibile ed è esattamente così perché le note sono note di testa marmellata di lampone e mandorla note di cuore pasta frolla vaniglia burro note di fondo zucchero di canna detto in parole povere a me ricorda un sacco che sono biscotti che mi piacciono tanto biscotti al burro ovvero i canestrelli non so se li conoscete per fare un po di pubblicità i canestrelli poi si confermo con una bella sbrodolata sopra una bella spalozzata una cucchiaiata di marmellata di lamponi quindi confermo il l'odore di lamponi in marmellata di lamponi qualcosa i lamponi e soprattutto però questi canestrelli sono biscotti nel burro sono dovrebbero essere biscotti tipici della cultura austriaca questi meri belli l'inzer più che altro biscotti linter ed è una profumazione favolosa come vedete io l'ho accesa sia dallo stoppino che l'ho messa sotto alla mia campbell lamp che vi lascio sempre qua sopra se non sapete cosa sia e ve lo lascio scritto qua sopra che cos'è il video dove ve ne parlo e niente questa qua sa di biscotti confermo totalmente diabetica di abeticissima o di abeticissima dipende non so come si dica di biscotti al burro con il lampone ed è una cosa giù di testa profuma un sacco si accesa normalmente che sotto la lampada e niente c'è ma questa qua mi ha esaltato un sacco questa profumazione e questa è la mia proposta per questo giorno ovviamente sotto nell'info box trovate i vari link per del canale del blog del gruppo facebook della pagina facebook tutti i link li avete qua sotto anche di instagram e mi raccomando se questi video vi piacciono se vi piaccia ascoltarmi mettete il like iscrivetevi al canale attivate il campanellino e noi ci vediamo domani con un'altra l'ultima diabetica ciao ciao